Con 19 voti a favore e 16 contrari, Arno Compatcher è stato confermato dal plenum presidente della provincia, carica che assume per la terza volta. Proposto dalla coalizione composta da SVP, Fratelli d'Italia, Freiheitlichen, Uniti per l'Alto Adige, Lega Alto Adige Suttirol e la Civica, Compatcher ha definito come obiettivi della futura giunta ad 11 in primis il ripristino delle competenze dell'autonomia e poi interventi mirati a stipendi adeguati, abitare sostenibile, sanità, sicurezza, prevenzione della povertà in età avanzata, neutralità climatica, sburocratizzazione. La coalizione, in particolare l'Alleanza con Fratelli d'Italia, è stata criticata dalle opposizioni che l'hanno definita un patto col diavolo. Per Suttirol e Freiheit, Gruppo Verde, Team K e Partito Democratico, Compatcher rivelava così la sua vera natura senza riconoscere il pericolo cui andava incontro. Für Suttirol mit Widman ha espresso sfiducia nelle capacità di Compatcher di guidare la provincia. Wirt, Underland e Vita hanno criticato l'assenza di rielaborazione del periodo pandemico. I partner di governo hanno replicato che il programma conteneva proposte comuni che miravano al benessere della cittadinanza. La Civica ha chiarito di aver deciso di sostenere la coalizione pur senza posto in giunta per garantire lo sviluppo della provincia. In avvio di seduta, dopo il minuto di silenzio ricordo del compianto ex consigliere Helmut Rensler, il presidente Josef Nogler aveva comunicato la costituzione di 12 gruppi consigliari. Grazie per la visione!